Come si può spiegare? Forse un po' mollato, non pensando più di rimetterla in corsa la partita, eppure abbiamo avuto l'occasione del 2-0 con Rufat in area di rigore, non ha concretizzato, lì anche nella ripresa ci sono stati un paio di interventi del portiere avversario, potevano riaprire la partita. Sempre di eluso o amareggiato o arrabbiato? No, sono un po' amareggiato perché volevo giocarmela a viso aperto con tutti i miei ragazzi al completo, sicuramente sono convinto che non sarebbe finita così la partita, purtroppo mi mancavano delle pedine cardini fondamentali e è difficile trovare il sostituto adatto. Comunque faccio un applauso anche ai ragazzi che sono scesi in campo, addirittura ho messo un ragazzo sotto età, fortunato, che è stato uno dei migliori a mio avviso, quindi va bene così, pensiamo alla crescita dei ragazzi che è la cosa più importante. Siamo passati in svantaggio però devo fare i complimenti ai ragazzi per la reazione che hanno avuto da subito, siamo riusciti a pareggiare subito, poi siamo passati in vantaggio 2-1, abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-1, quindi grande reazione dopo lo svantaggio iniziale, sapevo di trovare una squadra ben organizzata, c'è anche un'amicizia col mister avversario e quindi sapevamo che non sarebbe stata facile, sono stati bravi ragazzi. Complimenti a loro, mi hanno fatto un regalo nel giorno del mio compleanno. Orgurio a loro. Grazie. Ecco, sono due dati, 10 trasferte, 8 vittorie, non è un caso? Sì, non è un caso anche se siamo una squadra a cui piace giocare, quindi non troviamo grossa differenza tra casa e trasferta, noi cerchiamo di impostare un nostro gioco e quindi riusciamo a fare risultato anche in trasferta. Noi stiamo facendo un campionato assurdo, stiamo vincendo praticamente sempre e chi sta avanti a noi non si ferma, quindi rincorriamo, la matematica non ci condanna, siamo a 9 punti in palio, siamo a meno 5, non so oggi cosa ha fatto, non l'ho ancora visto. Sì, ci crediamo, finché la matematica non ci condanna, noi comunque faremo il nostro, proveremo a vincerle tutte di qui alla fine. Grazie.